Una spero lunga e fortunata serie di venerdì che riprendono una tradizione che viene da molto lontano allo scuola normale, che ha avuto varie incarnazioni dai venerdì del direttore a incontri in normale e cercando di riprendere entrambe le tradizioni abbiamo deciso di chiamarlo venerdì in normale. L'idea di questa serie di conferenze è quella tradizionale, cioè di avere personalità di vario tipo, di varie origini e di varie specializzazioni che ci vengano a raccontare in maniera un po' a cavallo tra aspetti specialistici e divulgativi, poi dipenderà da loro quale delle due cose privilegiare. Alcune cose che noi riteniamo interessanti con il contributo di tutti e come vedrete sarà un programma molto vario, declinato all'inizio molto al femminile per motivi che sono a metà una scelta e a metà una casualità direi. L'inizio abbiamo deciso, uso il plurale perché la decisione non è soltanto del direttore abbastanza integrata con tutto l'ufficio comunicazione attraverso discussioni, valutazioni e quant'altro, di scegliere una ex normalista, e questo diciamo è un valore ovviamente significativo, ma che accomunasse a questo un tema intrigante. A parte la validità e il valore della persona su cui dirò due parole, soltanto due parole fra un momento, ma è interessante il fatto che il fact checking, il cercare di usare approcci scientifici per determinare la validità di una notizia, ce lo dico in modo un attimo brutale che poi la relatrice ovviamente approfondirà molto, ma è il fatto di accomunare un approccio rigoroso a una materia di per sé stesso complessa, intrigante, che cambia di giorno in giorno come sono le notizie, il internet e quant'altro, è molto vicino a un sentire che sta ripetendo abbastanza frequentemente nei pochi mesi da cui sono direttore, che è quello della contaminazione e della complessità. Affrontare con questa maniera cose che sono intrinsecamente complesse, che evolvono con estrema velocità, quali sono le notizie, di varie origini, è secondo me paradigmatico di quello che significa oggi, o che può significare oggi contaminare approcci diversi, porsi problemi complessi, non avere paura di affrontarli e proporre soluzioni innovative. Sul tema non dirò altro perché ovviamente lascio alla relatrice tutto lo spazio per svilupparlo, io sono personalmente molto intrigato dalla cosa, non l'ho espresso perché ho cercato di tenere fino adesso un aplomb legato alla mia posizione formale, però le farò sicuramente le domande alla fine e approfitterò di lei per togliermi un certo numero di curiosità. Permettetemi giusto da un punto di vista un attimo più formale di darvi due notizie biografiche della relatrice, la quale è molto giovane e quindi mi posso anche permettere di dire che è nata nel 77 in provincia di Sondrio, a Chiavenna, perché tanto non le faccio torto pur essendo una signora, si è diplomata in normale nella classe di lettere e filosofia nel 2001, subito dopo è andata a lavorare al Corriere della Sera, dove è stata fino al 2011, dopodiché uno potrebbe dire che con questo ha cominciato una carriera di giornalista che ha continuato con successi numerosi anche dopo il 2011. Invece improvvisamente ha abbandonato il Corriere della Sera per darsi alla formazione di giornalisti in paesi di via di sviluppo, in particolare nel Sud Sudan, fino alla fine del 2013. Dopodiché è rientrata e nel 2016 fonda insieme a Nicola Bruno e a Fulvio Romanin fact checkers, e questo è il punto, se vogliamo, di svolta, che è quello che ci racconterà sostanzialmente oggi, che è l'insegnamento, e questo è l'altro aspetto, l'aspetto della didattica e dell'insegnamento in scuola di ogni ordine e grado in università, di tecniche di verifica della notizia, in particolare in ambito digitale e social. A quel punto ha scritto su varie testate e noto in particolare la serie, vi spiego fra un attimo perché lo dico in particolare, la serie sulla disuguaglianza per Oxfram Italia, realizzata con Gianluca Costantini in occasione del World Economic Forum del 2017 di Davos. In questa notizia biografica c'è un asterisco messo dalla relatrice, che denota la sua origine normalista, secondo me, e il suo rigore assoluto, perché c'è, e lo leggo testualmente, nota bene, la graphic novel su Davos uscirà tra il 17 e il 20 gennaio, quindi bisognerebbe trovare un modo per spiegarlo, di imminente uscita, in corso di pubblicazione, recente serie. Allora, questo è, secondo me, indicativo, no, ma lo dico di una cosa molto piccola e lo faccio apposta, ma del rigore con cui, anche in una breve nota bibliografica, si è posto il problema della verifica dei fatti che stava raccontando. E questo mi sembra assolutamente significativo, anche se è un punto minuscolo. Punti abbastanza più rilevanti per capire, poi mi fermo per lasciarle lo spazio. Dove impatta questa cosa? Ve ne dico giusto uno o due delle informazioni che mi erano state fornite. Per esempio, nel 2013, un falso tweet che annunciava un'esplosione alla Casa Bianca ha fatto crollare il Dow Jones di oltre 100 punti in meno di 120 secondi. Allora, vi rendete conto che questa cosa ha un impatto significativo. Per esempio, durante la campagna presidenziale americana si è scoperto che oltre 100 siti pro-Trump erano stati creati da un gruppo di teenager diversi in Macedonia. E altre cose di questo tipo. Perché, diciamo, cito questi aspetti? Perché al di là del fatto specifico che può essere più o meno verificato, può essere più o meno una bufala, queste cose cominciano ad avere un impatto che va bene al di là della notizia dello stretto settore a cui si riferisce, ma ha un impatto sul mondo socio-economico, su dei risultati di un'elezione in un paese come l'America, capite bene qual è l'impatto della cosa. Da cui l'importanza, al di là dell'uso che se ne fa, direi, sia per il singolo, sia per le istituzioni, che peraltro di avere degli strumenti che permettono in qualche modo di verificare e valutare la veridicità dei fatti. Adesso questo è detto in maniera molto dilettantesca e spero che la nostra eleatrice ci dia una serie di elementi maggiori in queste altre direzioni che lei vorrei seguire. La ringrazio di aver accettato di venire a parlarci di queste cose. In realtà, sente, sì, sono io che ringrazio il direttore, i suoi collaboratori, ringrazio la scuola. Io sono passati vent'anni, stavo calcolando l'altro giorno dal mio primo anno di corso ordinario, non venivo alla scuola da sette anni, quindi sono un po' emozionata. Non mi sarei mai immaginata di avere quello che posso dire è un onore di inaugurare questa serie, per cui perdonatemi se ogni tanto sarò un po' emozionata e mi perderò in qualche nota nostalgica, ma farò il mio meglio per stare sul tema. È un tema di cui ovviamente abbiamo sentito parlare in molti, giustamente il professore ricordava anche degli eventi concreti di cui parlerò più tardi. Non ne parlerò con un taglio prettamente accademico, un po' perché non sono un'accademica, ho lasciato la carriera accademica per fare altro, sono una divulgatrice di notizie come giornalista e in campo educativo, come si diceva, quindi non aspettatevi delle lezioni basate su analisi troppo accademiche, ma un excursus molto ampio, quello sì, su cosa voglia dire fact-checking e sul perché, dal mio punto di vista e credo anche da un punto di vista condiviso, sia sempre più rilevante. Negli ultimi tempi il fenomeno è esploso, se ne è parlato dappertutto, ieri ero a una riunione di lavoro a Firenze, mi dicevano dobbiamo fare un'intervista alla direttrice di Sky TG24, serie di domande, facciamole anche una domanda sulla post-truth society, che non c'entrava assolutamente niente con le altre domande da farle. E alla mia richiesta, va bene, ma perché dobbiamo parlarne? Perché ne parlano tutti? Va bene. Mi sembra una motivazione interessante, ma c'è anche chi ha iniziato a dire, ma forse stiamo dando troppa importanza al dibattito sulle fake news, perché le bufale sono sempre esistite. Qui ci sono molti amici storici e presumo altrettanti appassionati di pop music, dalla donazione di Costantino al protocolli dei Savi di Sion, alla morte presunta di Paul McCartney, per cui quello che abbiamo conosciuto sarebbe un sostituto messo lì ad arte, le bufale hanno avuto una storia, una narrativa che si è sviluppata nel corso dei secoli. Altri esempi sono quelli che avete visto nella slide iniziale, che è una composizione di illustrazioni della Penny Press americana del 1830. La Penny Press erano i tabloid, diciamo i giornali che si compravano per un penny nelle strade, sulla Great Moon Hoax. La Great Moon Hoax, la grande bufala lunare della Luna, era stata inventata dai giornali americani per vendere più copie, sostenendo che un astronomo inglese avesse con un telescopio scoperto delle creature misteriose che vivevano sulla Luna. 1830. Ha funzionato perché vendevano come il pane questi giornali. E poi c'è stato per gli appassionati di cinema, e di radio, la guerra dei mondi di Orson Welles, che quello, diciamo, entra più nello specifico dell'esperimento del test sociale o socio-culturale, e ne parleremo più avanti. Quindi inventare una notizia di un'invasione aliena parlandone in radio come se fosse un TG normale e vedere l'effetto che fa, come diceva qualcuno. E poi è arrivato Internet. Questo già introduce un fattore di cambiamento notevole. Possiamo essere tutti d'accordo che le bufale esistevano anche prima, ma non possiamo negare che per quanto io non sia tra quelli che accusano Internet di tutti i nostri dolori, come scrive questa giornalista scientifica, Brooke Borrell, in un intervento molto interessante, però sicuramente qualcosa ha fatto, ha reso il mercato delle notizie più veloce, incredibilmente più veloce, e ha allentato quelle che erano le gabbie rigide di contenimento e di regole che lo determinavano e determinavano i movimenti. Ci sono due fattori che intervengono dal punto di vista cognitivo. Uno è la riduzione dei nostri tempi di attenzione, che è a sua volta oggetto di una bufala statistica, molto divertente, l'idea della abbiamo meno capacità di attenzione di un pesciolino rosso. È una statistica che è stata rilanciata da tutti i quotidiani mondiali un paio di anni fa e che è stata confutata da uno studio che trovate online, si chiama Attention Span Statistic Fallacy, che dimostra come sostanzialmente il fatto che abbiamo l'attenzione di un pesciolino rosso sia a sua volta una bufala. Per cui vedremo come il gioco delle bufale è una specie di gioco di scatole cinesi. Per uno scienziato per una persona che applica dei criteri di rigore scientifico a volte diventa veramente un gioco all'infinito di inseguire la notizia primaria. È indubbio però che la capacità di attenzione si è ridotta, è aumentata la nostra capacità di multitasking e questo ha fatto sì che la velocità di internet e la nostra necessità di concentrarsi su più fronti inevitabilmente abbia aumentato a dismisura il problema di come selezionare, come verificare, come seguire l'origine delle notizie. C'è chi di questo fenomeno dà una lettura estremamente ottimistica. Oggi ne parlavo con un amico, è una lettura smithiana, qualcuno, anzi in particolare uno studioso dell'Università della Southern California, Mike Hannany, la definita The Invisible Hand of Fact-Checking. L'idea è che internet ha un'etica partecipatoria e sostanzialmente si autoregolamenta da sé, entra in gioco un modello di mercato basato sulla libertà di parola per cui alla fine c'è una grande mano invisibile collaborativa che fa sì che in questa visione ottimistica sia la verità quella che emerge. Io non ne sono propriamente convinta e vedremo un po' perché. Abbiamo detto bufale, parliamo di bufale, entriamo un po' più nello specifico, le chiamiamo bufale in generale e dentro ci sono un po' tante cose. C'è dalla catena di Sant'Antonio di Whatsapp che chiede di mandare il messaggio di solidarietà al bambino malato di tumore, alle foto, ai meme falsi che circolano su Facebook, le fake news propriamente dette. Questa è la definizione che ne dare Anna Ciccone che con Valigia Blu è stata tra le prime a occuparsi di fact checking giornalistico in Italia, anche questo è un intervento molto recente, dice che le fake news in senso stretto sono informazioni false prodotte e diffuse con l'intento malevolo di ingannare per motivi economici, clickbaiting, quindi traffico generato dai click, o politico-propagandistici, quindi per danneggiare la controparte. Anche qui gli esempi sono innumerevoli, ricordo per chi è appassionato al tema un'intervista a Gianluca Lipani sull'Espresso, Gianluca Lipani è un imprenditore del falso giornalismo, l'intervista di ottobre 2015 era stato un periodo, se vi ricordate, in cui uscivano a ripetizione sui social le notizie su l'immigrato che violentava la ragazzina e veniva con cose brutalissime, castrato dal padre della ragazza, costruiti come titoli di giornale, anche graficamente, e veramente condivisi decine di migliaia di volte con commenti che vi lascio immaginare. Bene, questo Gianluca Lipani era un ragazzo, è un ragazzo, perché adesso avrà una trentina d'anni, che ha capito un meccanismo molto semplice, che costruendo un sito appoggiato a determinati domini come Altervista, per esempio, che consentono di raccogliere soldi con il clickbaiting, poteva farci una piccola fortuna. Ha fatto due calcoli e ha capito che le notizie più condivise erano quelle più urlate, quelle che andavano a seguire determinate diciamo ondate di pancia della popolazione. Gianluca Lipani nell'intervista dice io non sono razzista, non mi interessa niente della migrazione, non sono antimigrati, non ho un partito politico, semplicemente ho capito che quelle notizie circolano, non vengono messe in discussione e io ci posso fare soldi. Altervista funziona così, Altervista viene considerato da tanti come piattaforma legittima di controinformazione, quindi bufale per motivi economici. Arianna Ciccone dice l'odio in politica e la sfiducia nei media fanno più paura delle fake news, questo è il titolo del suo intervento, io non sono neanche convinta di questo perché le fake news generano odio, in politica e non solo, quindi il meccanismo forse è un po' più complesso. L'altro esempio che vi volevo portare, questo è un esempio di cronaca molto più grave dell'intervista a Gianluca Lipani, è la famosa Chilcot Inquiry sul rapporto sulle weapons of mass destruction in Iraq, le armi di distruzione di massa che portò all'intervento in guerra della Gran Bretagna. Brevemente, luglio 2002, Tony Blair incontra George Bush, incontro privato, la frase che Tony Blair dice a George Bush è I will be with you whatever, sarò dalla vostra parte, non importa che cosa accada. L'opinione pubblica inglese è contro la guerra, a settembre del 2002 esce il September dossier, che è il famoso documento di cui vedete una foto che, prodotto dai servizi e dall'intelligence britannica, in qualche modo testimonia che sì, Saddam Hussein ha delle armi di distruzione di massa e no, non sta facendo niente per distruggerle. La Gran Bretagna entra in guerra, sappiamo tutti cosa succede in Iraq, nel 2009 Gordon Brown primo ministro lancia un'inchiesta sui danni e sui fallimenti della guerra in Iraq. Questo rapporto, questa inchiesta è la Chilcot Inquiry, il report esce a luglio 2016, sette anni, e smentisce il rapporto dell'intelligence. Saddam Hussein non aveva armi di distruzione di massa, anzi, era in procinto di smantellare gli stabilimenti chimici di quelle foto, la Gran Bretagna è scesa in guerra e l'Iraq è nella situazione in cui ci troviamo. Quindi fake news politiche con significati molto concreti nella vita reale. Parliamo di fake news, di fact checking, un altro dibattito che ho avuto in questi mesi anche con ex compagni di corso normalisti e però usiamo delle parole in italiano basta con questi anglicismi. Allora da un lato c'è un discorso anche come dire di letteratura ormai come dire condivisa a livello mondiale, il fact checking che è la verifica delle notizie è nato negli Stati Uniti, sono anglicismi ma sono concetti però che noi conosciamo molto bene e che a livello accademico, a livello proprio anche di studio nelle nostre rispettive discipline secondo me possiamo tutti condividere quindi la verifica delle notizie e il fact checking. Altri fenomeni già noti a livello sociale soprattutto e culturale sono le camere dell'eco, le echo chambers, le bolle di filtraggio, direi che in questo caso io preferisco filter bubbles perché è decisamente più bello da dire e la famosa post-truth, la post-verità. Cosa sono questi fenomeni? Questi fenomeni sono le catene di chiacchiere che una volta si facevano al negozio del paese, il circolo di amici chiuso per cui diventa autoreferenziale, la classe sociale in cui circolano determinate notizie, ci si autoconvince e si confermano le proprie credenze però tutto questo accade alla velocità e nel dominio virtuale di internet quindi le dimensioni e la rapidità di diffusione del fenomeno come dicevamo all'inizio sono uscite proprio dai confini che conoscevamo fino a qualche tempo fa. C'è una ricerca molto bella che è stata fatta in parte qui vicino all'IMT di Lucca e avete poi gli estremi lì che è proprio centrata sulle camere dell'eco, sulle eco chambers. Cosa sono le camere dell'eco? È quel fenomeno per cui quando noi ci troviamo impegnati una discussione su internet i nostri referenti sono tendenzialmente persone che condividono con noi una stessa visione del mondo cioè la selezione avviene in maniera molto più netta che non nella vita reale e quindi c'è questo eco che ci ritorna le nostre convinzioni sostanzialmente veniamo confermati in quelle che sono già le nostre credenze. le narrative non variano non vengono messe in discussione lo fanno in maniera molto più relativa questa ricerca è stata fatta su Facebook nello specifico è una ricerca quantitativa che è stata fatta su utenti italiani e statunitensi con due tematiche principali le conspiracy theories le teorie della conspirazione e le notizie scientifiche il paper è uscito a giugno dell'anno scorso e appunto è firmato da Walter Quattrociocchi Antonio Scala e Cass Sunstein che è un giurista esperto di diritto d'informazione ed è uno dei grandi punti di riferimento per chi si occupa di questi temi ed è ad Harvard è stato anche consigliere di Obama e questo studio ha confermato che queste filter bubble queste bolle di filtraggio che tengono fuori tutto quello che va a disturbare la nostra narrativa personale esistono cioè è una cosa scientificamente provata l'era della post verità anche questo è stato messo in discussione l'Oxford Dictionary l'ha eletta parola dell'anno c'è chi ha detto no ma non è vero la post verità non vuol dire che la verità non esiste più vuol dire che siamo arrivati a un momento in cui le convinzioni personali e l'emotività il fattore emotivo diventano più influenti di tutto il resto nel determinare e nell'orientare l'opinione pubblica e questa è una cosa in cui io credo profondamente perché l'essere confermati nella propria opinione senza mai avere un dibattito innanzitutto disabitua alla messa in discussione e all'argomentare e poi basa appunto tutto su una percezione soggettiva emotiva di quello che è il mondo che ci circonda soprattutto per quanto riguarda la nostra azione a livello di cittadini e di interazione con la società civile chiariamo una cosa non è vero che Facebook ha fatto vincere Trump non sto dicendo questo non è vero che senza Facebook la Brexit non ci sarebbe stata non è vero che il non referendum l'hanno fatto vincere i gruppi di pressione su Facebook o su Twitter è un'altra cosa e qui parlo da giornalista è vero che le filter bubbles hanno fatto sì che i giornalisti di tutto il mondo non capissero che stava per vincere Trump perché se i giornalisti di tutto il mondo leggono i giornalisti di tutto il mondo e gli accademici di tutto il mondo e non è la stessa filter bubble dell'elettore del Minnesota o dell'Ohio allora vuol dire che intercettare la notizia diventa praticamente impossibile a meno che uno non torni a parlare nella vita reale ma questo è un altro discorso quando ho iniziato ad appassionarmi di queste cose paradossalmente quando ero non quando ero a Corriere della Sera perché ero in piena filter bubble Corriere ma quando mi sono trovata in Sud Sudan mi è scoppiata letteralmente la guerra sotto i piedi perché il 15 dicembre del 2013 scoppia la guerra civile Sud Sudan si era separato da tre anni diciamo effettivamente dal Sudan e scoppia la guerra civile io vengo evacuata dall'esercito una storia molto lunga era appena arrivata in Italia iniziano a uscire i report su quello che stava succedendo a Juba esce quell'articolo che vedete a sinistra che è un articolo del Guardian questo è uno screenshot perché poi in realtà il titolo è stato cambiato e vi spiego perché l'articolo dice se leggete il catenaccio parla del del primo giornalista occidentale in Sud Sudan quello sarebbe stato il report del primo giornalista occidentale Peccato che in Sud Sudan in quel momento eravamo almeno dieci giornalisti occidentali quello era semplicemente l'inviato dal Guardian che da Nairobi aveva preso appena avevano riaperto lo spazio aereo il suo aereo era arrivato a Juba l'articolo prosegue indicando come causa dell'ondata di violenza un tentativo di un conflitto tribale quindi uno scontro tra tribù la guerra in Sud Sudan nasce per motivi politici e poi sfocia in un conflitto tribale in quel momento io e due ricercatrici inglesi che stavano a Juba abbiamo scritto una petizione ad Alan Rusbridger che era il direttore del Guardian al tempo per chiedere di rettificare non solo l'informazione sui giornalisti occidentali che ci sembrava profondamente offensiva anche per i giornalisti locali con cui io lavoravo e che comunque stavano rischiando la pelle per far uscire le notizie ma soprattutto sulla deriva tribale del conflitto perché ci sembrava molto rischiosa viene corretta l'informazione sul giornalista occidentale non viene corretta la questione sull'origine tribale del conflitto il conflitto diventa tribale nel senso che quello che succede è che l'informazione distorta della stampa occidentale raggiunge la diaspora sudsudanese nel mondo che ha accesso ai social in maniera continuativa l'informazione rimbalza sui social che vengono visti in sudsudan e alimenta il discorso sul presunto odio tribale quindi le uccisioni tutte da parte dei dinka ad anno dei nuer vengono ignorati gli episodi nel senso inverso viene ignorata tutta una serie di costellazioni di affiliazioni politiche che dimostrano come in realtà la situazione sia molto più complessa e torniamo al discorso di prima la negazione della complessità il rifiuto dell'analisi approfondita per farla molto breve adesso a distanza di tre anni è uscito su BuzzFeed un'analisi di Jason Patinkin che è un giornalista un collega che è stato per molti anni in sudsudan che racconta come ci siano stati report precisi di ricercatori e delle Nazioni Unite che hanno denunciato il peso della disinformazione mediatica nell'alimentare lo hate speech quindi questo discorso di odio tribale che adesso è diventato realtà quindi le fake news distorcono la realtà raccontandola ma la distorcono anche come dire inverando qualcosa che in origine era una un pezzo di male informazione per chi è familiare con la storia africana in Ruanda era Radio Milcolin ed è finita la Corte Penale Internazionale ed era una radio in sudsudan sono stati decine di migliaia di account di Facebook e Twitter altro punto molto importante a questo punto è il discorso sulle fake news è sì sulla verità ma è soprattutto un discorso di potere perché raccontare la verità in maniera distorta e opporre delle bolle di filtraggio che non si parlano vuol dire in realtà mettere in atto uno scontro tra visioni diverse del mondo che non dialogano più quindi è uno scontro di potere a tutti gli effetti e qui l'errore e parlo da giornalista e parlo anche da ex accademica diciamo secondo me è stato quello per tutti noi di chiuderci un po' nella torre d'avorio per un lungo periodo e pensare che in fondo questo dibattito virtuale dei social Whatsapp Facebook Snapchat Instagram fosse un dibattito secondario una specie di spazio di divertismo in cui sì lo fanno i ragazzini possiamo farlo noi a tempo perso ma in realtà non lo facciamo seriamente non è così questo è un piano dove si giocano veramente partite molto importanti non solo su chi detenga il monopolio della verità che è qualcosa in cui io fondamentalmente non credo bensì proprio su che tipo di mondi parlo al plurale non per caso ci stiamo costruendo intorno parlavamo di Trump delle fake news ribadisco non lo hanno fatto vincere non sono state loro altrimenti non si spiega come mai se contiamo i voti singoli in realtà abbia vinto Hillary Clinton perché ci sono qui 3 milioni sappiamo che è il sistema elettorale americano che ha distorto come ha sempre fatto il risultato finale questo non significa che le elezioni negli Stati Uniti non abbiano rappresentato per quanto mi riguarda un momento di presa d'atto lampante per tutti cioè questo dibattito sulle fake news è un dibattito che ha un'influenza reale qui vi ho portato un esempio in cui si parla anche di quei famosi teenager balcanici che citava prima il direttore allora innanzitutto c'è stato un picco nel mese precedente soprattutto alle elezioni e nella diffusione di Bufale BuzzFeed che è stato lanciato da Craig Silverman che è anche lui uno dei guru nel fact checking mondiale ha fatto uno studio in quelle settimane su oltre mille post che erano stati selezionati da nove pagine Facebook quindi ancora una volta su Facebook a sinistra trovate il mainstream media cioè diciamo i media col bollino blu abbiamo politico abbiamo la CNN abbiamo la ABC News con il numero di di fan su Facebook quindi vedete siamo comunque nell'ordine del milione due milioni di followers seconda terza colonna abbiamo quelle che loro chiamano verified hyperpartisan sempre Facebook pages verified perché vuol dire che c'è dietro comunque un team uno staff ben preciso hyperpartisan vuol dire che sono polarizzate in maniera estrema a sinistra o destra alcuni probabilmente li conoscete perché vabbè abbiamo Occupy Democrats and the other 99% che sono piuttosto famosi guardate i numeri anche solo dei followers qui viaggiamo già soprattutto su quelli degli ultimi due scusate quello centrale della colonna di destra viaggiamo su quasi oltre 3 milioni di utenti Occupy Democrats è 4 milioni erotti quindi anche numericamente non stiamo parlando di bruscolini comparandoli con i media mainstream cosa hanno verificato che innanzitutto se guardate il secondo schemino il verde sono le notizie vere il rosso sono le notizie che loro sono state che sono state analizzate e trovate false il grigio sono quelle che mischiano fatti e fatti reali e falsità che sono forse ancora più pericolosi il bianco sono i pezzi che non contengono fatti quindi opinioni o discorsi diciamo in generale la cosa molto interessante è che innanzitutto vedete la differenza abissale tra i media ufficiali e le pagine hyperpartisan il problema è più grave per i siti di destra per quanto riguarda le notizie false ma anche per quanto riguarda i siti pro Clinton diciamo abbiamo un altissima percentuale di pezzi non fattuali quindi di discorso vuoto senza dati concreti e una percentuale comunque non indifferente di miscuglio di verità e falsità le pagine con l'indice più basso di accuratezza sono quelle che sono state condivise di più ed è anche questo molto indicativo e lì appunto a seguire c'è stata questa analisi che ha dimostrato come di quei siti hyperpartisan un centinaio fossero stati creati dallo stesso gruppo di ragazzini adolescenti in questa cittadina nella stessa cittadina macedone che avevano capito come il nostro amico intervistato dall'Espresso che si sarebbero fatti qualche quattrino in più creando dei siti su Trump estremizzati che sarebbero stati messi in circolo e dai fedelissimi di Trump e dagli oppositori di Trump per dire ma avete visto che cosa scrivono i sostenitori di Trump quindi doppio mercato altro esempio molto indicativo di come la contaminazione tra news reali e fake news sia pericolosissima è questa storia che è stata raccontata dal Denver Post che è un quotidiano vero e che ha sbugiardato un articolo pubblicato sul Denver Guardian il 5 novembre 2016 vi ricordate del periodo in cui si parlava dei leaks delle mail di Hillary Clinton che poi si è sgonfiato come un palloncino in realtà esce questa notizia che viene condivisa nelle ore iniziali fino a 100 volte al minuto l'agente dell'FBI sospettato di aver fatto di aver diffuso le mail di Hillary Clinton trovato morto in un apparente omicidio suicidio con tanto di incendio della casa successivo il sito del Denver Guardian se uno lo apre adesso non è più online sembrava un quotidiano assolutamente normale il Denver Post va ad allanizzare la notizia e pubblica un articolo in cui punto per punto fa quello che facciamo noi come associazione cioè spiega che cosa dovete andare a vedere per scoprire effettivamente che questa notizia è un fake loro le chiamano red flags cioè quelli come dire i campanellini di allarme quelli che dovrebbero dire ma insomma forse questo vanno a verificare il dominio e scoprono che poi vi spiegherò appunto i vari punti il dominio è stato registrato nel luglio 2016 di per sé non sarebbe niente di male se non che il sito stesso nell'about us dichiara che il Denver Guardian è il più antico come dire media di Denver il che va un po' come dire a stridere con questa informazione cliccando sulle altre sezioni di notizie secondo si prende la briga di andare a vedere per esempio cosa c'è negli sport c'è sempre una segnalazione di errore o di moduli incompleti quindi il sito è uno specchietto per le allodole andando un po' più in profondo esaminando l'articolo questa cosa sarebbe successa in un paesino di nome Walkerville in Maryland quindi neanche a Denver Colorado ma da un'altra parte Walkerville non esiste allora uno dice vabbè è un refuso c'è una Walkersville però Walkersville è talmente piccola che non ha un dipartimento di polizia e allora come fai a citarmi come fonte primaria di informazione il Walkersville police chief Pat Frederick se non c'è un police department non ci sarà neanche un capo della polizia altra red flag voglio scrivere e contattare la redazione del Denver Guardian per chiedere informazioni l'indirizzo fornito per la redazione lo metti dentro Google Street View e scopri che è un parcheggio in una banca abbandonata alla periferia di Denver il sito che sembra un giornale vero è pari pari la fotocopia del Baltimore Gazette che è un altro sito fasullo che era stato sbugiardato qualche mese prima con un'operazione analoga tra le fonti secondarie si fa riferimento a una televisione locale ma sul sito che è effettivamente una televisione di Walkersville Maryland ma sul sito di quella tv non c'è nessuna notizia che riguardi non dico l'omicidio suicidio ma neanche un incendio e per finire ciliegina sulla torta quella bellissima immagine evocativa usata per illustrare la storia è stata scattata da un ignaro utente di Flickr nel 2010 ed era la casa in fiamme dei suoi vicini in tutt'altra parte era in Texas se non sbaglio questa notizia che è stata smentita nell'arco di credo quattro ore ha continuato a circolare per settimane e se andate a cercare tra i siti cospirazionisti italiani ve la trovate paro paro con la stessa foto lo stesso titolo le stesse informazioni in circolazione tutt'oggi e anche su alcuni siti di presunti consigli economici che fanno clickbaiting per far vedere che pubblicano anche notizie internazionali mi ripeto non è una questione di come dire lana caprina o perché noi dobbiamo assolutamente fare le pulce alla cosiddetta controinformazione questa è una frase di un professore di storia di storia moderna che dice le vite le fortune e perfino il destino dei regni possono dipendere dal fatto che si agisca basati sulla corretta informazione una banalità qualcuno di voi ha sentito parlare del pizzagate allora il pizzagate che fa ridere come definizione è un'altra teoria cospirazionista esplosa prima delle elezioni americane sempre stesso leak delle mail dello staff della Clinton questa teoria collegava le mail di John Podestat che era il presidente della campagna elettorale della Clinton a dei presunti messaggi in codice su un traffico di esseri umani in particolare di bambini quindi una rete pedofila collegando alcuni ristoranti nello specifico della zona di Washington DC con dei politici democratici che sarebbero andati lì per ritirare dei bambini di questa rete di traffico pedofilo questo posto qui si chiama Comet Ping Pong ed è una pizzeria proprio di Washington DC il pizzagate è avvenuto lì e questa è la lezione numero uno di questa lunga carrellata di analisi che ho fatto negli ultimi mesi le bufale hanno effetti pratici quel signore che vedete lì si chiama Edgar Welch ha 28 anni il 4 dicembre scorso ha fatto irruzione nel Comet Ping Pong di qui sopra con una R15 che è un fucile automatico e ha sparato in giro fortunatamente non ci sono stati feriti quando è stato arrestato ha detto che aveva letto la teoria del pizzagate voleva investigare da sé però poi è entrato e effettivamente si è reso conto che non c'erano bambini sequestrati nel retrobottega e quindi si era sbagliato la teoria non stava in piedi è andato a verificare a modo suo ha fatto fact checking diciamo passando qui non ci sono state vittime passiamo a una cosa un po' più seria e anche forse che tocca da vicino tanti di noi e tante delle nostre ricerche gli antivaccinisti questo schemino che vedete allora la ricerca la trovate su Science l'articolo che vi ho citato riguarda le esenzioni l'aumento drammatico dell'esenzione per convinzione personale in Texas nei bambini di età scolare partiamo da 2300 esenzioni nel 2003 che è stato l'anno in cui è stata introdotta l'esenzione per questi motivi fino a quel punto lì si poteva solo essere esentati per ragioni mediche allergie insomma in quel momento lobby politica in Texas viene introdotta la possibilità di esentare i bambini per convinzioni personali della famiglia non commento nel 2016 l'articolo è uscito il primo dicembre quindi era ancora in fase di completamento ma al primo dicembre 2016 erano oltre 44.000 l'esenzione in Texas questo ha fatto sì che l'autrice dell'autore del pezzo stimasse che le prime epidemie di morbillo in Texas possano arrivare già a partire dall'inverno del 2000 epidemie diciamo importanti partire dalla primavera del 2018 cosa è successo è successo che in Texas oltre all'attività di lobbying qui sopra è arrivato Andrew Wakefield Andrew Wakefield è il signore che nel 1998 pubblica su The Lancet il paper che sostiene il legame tra vaccino polivalente e autismo Andrew Wakefield è stato radiato dall'ordine dei medici britannico ha fatto un film autoprodotto che si chiama Vaxxers in cui teorizza il complotto mondiale dei vaccinisti e fa il giro del Texas proiettandolo nelle comunità questa è la situazione quindi le bufale hanno effetti reali e concreti la seconda lezione è che le bufale sono già scappate dal recinto quindi purtroppo stiamo giocando siamo in rincorsa questo è un altro studio molto interessante mi fa molto piacere dire che tra i confirmatari ci sono tre italiani dell'Università dell'Indiana praticamente stiamo parlando di una piattaforma è uno dei pochi esempi che sono stati pubblicati di come utilizzare degli strumenti di analisi scientifica nel tentativo di tracciare proprio anche la modalità di diffusione di queste fake news perché per intercettarle per bloccarle bisogna capire come si muovono Hoaxi è una piattaforma che traccia la disinformazione online cosa fa? individua tramite e viene fatta su twitter individua tramite gli hashtag degli argomenti e dei contro argomenti e traccia tutte quelle reti che vedete sono l'intensità e la rapidità della diffusione e la visualizzazione grafica di come informazione buona tra virgolette quella blu e contro informazione negativa fake news su quello stesso su quello stesso argomento si diffondano e come si infiltrino a vicenda come avviene questa cosa? viene scelto un hashtag quella a sinistra vedete è il discorso in cui sono tutti discorsi blu in cui si parla di cielo oggi il cielo è azzurro in texas guardate che bel tramonto che c'è nel cielo eccetera quella parte gialla dorata sono i cospirazionisti delle scie chimiche no? gli sci chimichisti come si dice in italia che utilizzando gli stessi hashtag quindi sky cielo eccetera infiltrano il discorso normale sano avete visto il cielo e poi arriva l'hashtag da fuori e dice il tramonto di oggi in realtà è frutto delle scie chimiche sopra l'aeroporto di Houston ed infiltra il discorso contamina il discorso quello a destra sono quello più diciamo con quei punti scuri molto più in evidenza sono gli antivaccinisti che infiltrano il discorso in generale sulle epidemie di influenza quindi si sta parlando di influenza mi sono ammalato di influenza track allo stesso hashtag si aggancia il discorso su come in realtà siano le case farmaceutiche che ci indeboliscono con i vaccini eccetera eccetera quello che vedete in basso a sinistra è la mole di tweet di fake news rispetto al fact checking della stessa notizia che smentisce la notizia falsa come vedete c'è l'ordine di grandezza è lo stesso argomento ovviamente in tempo reale l'ordine di grandezza è piuttosto come dire impressionante la differenza tra i due cioè il disavanzo a favore delle fake news è piuttosto spaventoso uno dei motivi qual è che lo studio di di Mengster e dei suoi ha dimostrato come la condivisione dei contenuti di fact checking quindi la verifica la smentita arriva dopo una media di 10-20 ore dalla disinformazione quindi è un arrancare il motivo qual è è che i complottisti sono molto più attivi dei debunkers dei fact checkers numericamente e quindi è è un correre dietro al treno perennemente questa è una mail che è circolata all'interno del nostro gruppo di fact checkers internazionale e spiega molto bene la frustrazione che uno può provare in questo momento perché dice Steve Myers è di un gruppo di fact checkers della Louisiana anche qui siamo in periodo elettorale e dice la scorsa settimana abbiamo scritto di una macchina elettorale quelle automatiche americane che avrebbe iniziato a funzionare da sola in un seminterrato quindi registrando voti anche se era spenta nel seminterrato quindi le famose anche le teorie cospirazioniste è tutto pilotato ci sono i voti falsi eccetera la bufala ovviamente è stata smascherata un sostenitore di Trump l'ha posta su Facebook ed è stata vista da 530 mila utenti e lui dice io non ho controllato quanti visitatori abbia avuto la nostra pagina ma nella migliore delle ipotesi la nostra audience globale quindi non per questa è ferma l'1% di questo totale forse metà o un quarto dell'1% se pensiamo come possono intersecarsi questi due pubblici cioè quanti di questi che hanno condiviso la storia della macchina che funzionava da sola poi è andata a vedersi il sito per dire ma vediamo se qualcuno l'ha smentita probabilmente stiamo parlando di una decina di persone o ad andare bene un paio di centinaia quindi il fact checking è un lavoro faticoso costoso lungo e ingrato questo è tanto per dare un po' l'idea per smascherare il report famoso della Chilcott scusate del September Report sulle armi di distruzione di massa è stato ci sono voluti sette anni e alla fine il documento prodotto qui è confrontato con diciamo i grandi capolavori della letteratura mondiale ed è probabilmente il report più lungo della storia ci sono voluti soldi ci è voluto tempo nonostante questo ancora nel 2007 quindi mentre le indagini erano in corso c'era quasi il 40% degli americani che credeva che la guerra fosse giusta e che le armi di distruzione di massa esistessero quindi terza lezione forse i giornalisti davvero non bastano più i giornalisti i verificatori di notizie chi vede le correzioni se la gente non si fida più dei mass media e non va a controllare i mass media perché i mass media sono tutti i servi del potere complottano a chi interessa andarle a controllare quante redazioni hanno veramente un team di fact checkers qui ci sono alcuni esempi di team attivi l'ultimo che si è aggiunto è quello del BBC reality check che era stato attivato durante la Brexit il referendum e adesso proprio una notizia di un paio di giorni fa è stato reso permanente se vedete non ce n'è neanche uno italiano piccola parentesi cioè le redazioni non hanno il team di fact checkers e le redazioni cascano drammaticamente nelle bufale perché nel ciclo delle notizie 24 ore su 24 io l'ho visto mentre lavoravo al Corriere non c'è tempo materiale di verificare tutte le notizie e molti giornalisti non sono preparati non si sono tenuti al passo con quello che vuol dire verificare nell'epoca di internet due esempi molto banali uno che è finito bene un altro un po' meno bene quello che è finito bene tra virgolette è quello a destra quando c'è stato l'attentato a Bruxelles e quasi tutti i media italiani e molti media internazionali hanno riportato un video come esclusivo arrivato dalle camere di sicurezza e in realtà era un video che era stato girato a Mosca nell'attentato della metropolitana l'espresso dico che è finito bene perché l'espresso ci ha messo la faccia ed è uscito con una smentita dicendoci scusiamo con i lettori di solito cosa viene fatto viene tolto il video si fa finta di niente e insomma domani altro giro di giostra altro regalo a sinistra la Repubblica l'ha fatta un po' più grossa nel senso che ha aperto la home page anche lì in campagna elettorale grande concitazione dicendo che Trump si era scagliato contro la Stata della Libertà perché incitava all'immigrazione quello è un commento poi che ha fatto un mio amico su Facebook ovviamente era un fake era un articolo satirico dell'Huffington Post e non ci voleva veramente lì non bisognava neanche essere fact checker perché scusate lo so che è la normale non bisognerebbe dire certe cose ma se leggi nell'articolo che tra le citazioni di Trump c'è che la Stata non gli piace perché non ha neanche le tette forse qualche dubbio che non sia una storia vera da giornalista dovrebbe venirti no è stata in home page abbastanza perché ci fosse gente che l'ha screenshotata e l'ha diffusa ampiamente altre due notizie degli ultimi giorni è uscita solo su Repubblica sì sì no è stato io ho portato Repubblica perché poi è stata però è stata è stata abbastanza cioè ci è voluto un pochino prima che se ne accorgessero che poi succede spesso anche magari non è giornale però con gente che condivide The Onion Lercio lo sappiamo tutti adesso forse la gente sta un po' più attenta però insomma qualche amico che ha condiviso un articolo di Lercio pensando che fosse vero secondo me ce l'abbiamo tutti e poi vabbè gli ultimi giorni la notizia del Washington Post sull'hackeraggio dei russi che poi si è scoperto che era un malware di un dipendente che era uno ed era un classico malware non c'era nessun attacco hacker contro la società elettrica e però c'era stato il titolo nel prima pagina il Guardian che ha ripreso distorcendo da un'intervista di Stefania Maurizzi su Repubblica ad Assange mettendogli in bocca un endorsement a Trump che lui non ha mai detto non entro nel merito di Assange eccetera però quella frase lì lui non l'ha mai detta e il Guardian che noi riteniamo uno dei grandi giornali di tradizione inglese ha completamente distorto la traduzione non basta nel giornale ma non basta neanche Facebook vabbè i meme sono sempre fonte di grande divertimento mi sono concesso un po' di perché non basta Facebook adesso ultimamente ci stanno facendo credere che stanno scendendo tutti in campo Zuckerberg prima ha negato poi ha detto adesso faremo hanno lanciato un accordo con l'International Fact Checking Network per creare un meccanismo che consente agli utenti di segnalare dei contenuti con un click su un'icona che dirà falsa notizia la falsa notizia verrà passata dai team di fact checkers che tra parentesi non verranno pagati ma questo è un altro paio di maniche in tutto il mondo sottoposta alla loro verifica e contrassegnata come in discussione per cui in attesa di verifica si saprà che quella notizia può essere vera o falsa c'è chi ha gridato alla censura dicendo no dobbiamo intervenire Facebook deve togliere le notizie false ovviamente io non sono per la censura ma questo è un altro discorso e probabilmente non avrebbe neanche molto senso all'effetto pratico e c'è un altro problema che alla gente piace condividere queste cose dobbiamo essere molto onesti sondaggio del Pew Research Center l'88% dice sì effettivamente creano confusione il 23% dice io però ne ho condivise e il 14% dice io le ho condivise e lo sapevo che erano false ma le ho condivise lo stesso sono come quelli i vostri amici che gli dite guardate che quella notizia è falsa sì lo so però avrebbe potuto essere vera e quindi io la condivido lo stesso a me è capitato tantissime volte ed è una delle cose che mi mandano completamente in bestia perché è come dire vabbè allora cioè facciamo cacciare tanto per far cacciare chi se ne frega se l'altro punto che viene sollevato è che come dire per avere un ruolo vero nel come dire nello scremare le notizie vere delle notizie false Facebook dovrebbe funzionare in maniera molto diversa e dovrebbe avere una natura molto diversa da quella che ha innanzitutto dobbiamo ricordarci che Facebook e Google funzionano con degli algoritmi che proprio per natura ci propongono contenuti simili a quelli che abbiamo cliccato perché ci danno quello che ci piace cioè se a te piacciono le fragole non ti propongo che ne so l'amaro a verna che ha un gusto completamente diverso ti proporrò la fragola il lampone eccetera eccetera e continuerai a credere che i gusti si limitino a questa è una questione di mercato a loro conviene mantenere cioè fidelizzare il cliente diciamo così quindi anche se noi ci comportiamo ci illudiamo del fatto che Facebook sia una specie di arena di dibattito pubblico che risponda a delle regole ben precise in realtà la struttura di Facebook non è mai stata disegnata per questo scopo quindi abbiamo stiamo cercando di dilatare un contenitore per adattarlo a quello che ci siamo resi conto è un'esigenza quindi di riportare il dibattito su di binari ma il contenitore non è flessibile ha una flessibilità molto limitata arriviamo alla lezione numero 5 quella che io chiamo delle margherite atomiche forse questa qualcuno di voi la conosce e forse avete visto lo studio uno studio uscito a novembre dall'Università di Stanford si chiama Evaluating Information e ha fatto discretamente rumore negli Stati Uniti perché hanno analizzato un campione di oltre 7.800 studenti dalla middle school fino al college in 12 stati americani i ricercatori non i giornalisti hanno detto che i risultati sono sconcentranti tetri Blake e una minaccia per la democrazia perché cosa hanno trovato? che l'obiettivo era di valutare come i nativi digitali valutano le notizie in internet quindi chiedendo di fronte a determinate cose appunto che domande dovete farvi per capire se una prima cosa che hanno trovato è che negli studenti delle scuole medie non sono in grado di distinguere una pubblicità da un contenuto giornalistico anche se sopra c'è scritto sponsored content avete presente gli articoli quelli proprio col disclaimer iniziale i ragazzini non lo vedono non lo vedono per loro un articolo pubblicitario è uguale basta che sia pubblicato su un giornale ed è contenuto giornalistico le margherite atomiche in realtà riguardano un'altra domanda che è stata fatta ai ragazzi un po' più grandi delle high school anche qui oltre 80% degli intervistati non ha saputo rispondere la domanda era questa fotografia fornisce una prova che il disastro nucleare di Fukushima ha causato queste mutazioni in natura allora la fotografia è stata pubblicata su Imgur che è una specie di Instagram usato molto in Oriente e il testo lo vedete dice Fukushima nuclear flowers e sostanzialmente c'è una didascalia che dice non c'è bisogno di aggiungere nient'altro i ragazzini non hanno saputo rispondere non sono stati in grado di dire se nella fotografia non dovevano dire se era vera o falsa ma dire se nella fotografia ci fossero prove dati in grado di ragionare sulla sua veridicità o falsità banalmente in una fotografia uno dovrebbe andare a vedere dove è stata pubblicata che tipo di legame c'è l'utente che l'ha pubblicata che tipo di legame ha con la realtà che descrive eccetera eccetera nel contesto specifico quella fotografia è stata pubblicata vicino a Fukushima pochi mesi dopo Fukushima ma quel tipo di mutazione lì come probabilmente molti di voi sanno è una fasciazione che è un fenomeno che può avvenire tranquillamente in natura quando una pianta è sottoposta a uno stress ma che può essere banalmente gli passa sopra una macchina o che c'è una mutazione nelle condizioni di crescita del suolo ma non c'è una correlazione causale con le radiazioni quindi le margherite doppie ce le ho avute io nel mio giardino e abito in Valtellina a meno che non sia esploso qualche deposito sotterraneo svizzero negli ultimi anni non credo che ci siano con questo cosa voglio dire che noi ci illudiamo di un'altra cosa che i nativi digitali abbiano gli strumenti per combattere per capire il contesto in cui viene diffusa l'informazione su internet non ce l'hanno e qui arrivo all'importanza di quello che chiamiamo educational fact checking ed è perché secondo me coincida molto con quello che si fa in normale e con quella che è la vocazione della normale non vorrei avervi depresso troppo perché mi sembra che da tutto quello che abbiamo detto è come se stessimo svuotando l'oceano con la famosa secchia bucata perché le considerazioni che poi uno fa è sì certo Google e Facebook possono anche arrivare a bloccare i siti bufalari impedendogli di mettere l'advertising ma questi apriranno altri siti Facebook sta facendo un'associazione con chi fa fact checking a livello professionale ma questi gruppi che fanno fact checking vengono additati dai cospirazionisti e dagli utenti più politicizzati come a loro volta politicizzati coinvolti nell'industria dei media nel complotto mondiale eccetera siamo arrivati al punto in cui i creatori di notizie false hanno cooptato il termine notizie false questo tizio qui Alex Jones che è un cospirazionista americano ha pubblicato sul suo sito una lista di siti bufalari e al primo posto ci ha messo il New York Times e il Washington Post perché è chiaro che se sei un bufalaro per te i bufalari sono quelli che danno le notizie che non collimano con quello che dici tu e non se ne esce allora forse è tutto inutile io credo di no credo che questo sia il momento e veramente è il momento in cui le bufale stanno scappando per cui siamo già in ritardo e bisogna muoversi alla svelta è il momento di fare delle alleanze strategiche le alleanze strategiche sono quelle tra i giornalisti gli accademici e gli educatori cioè bisogna di più interventi di formazione ovunque a tutti i livelli più ricerche sulla modalità di diffusione quindi gli scienziati in questo caso sono ricerche molto difficili perché anche quella che vi ho fatto vedere prima di Oxy è in fase beta perché ha ancora delle falle sono anche ricerche costose che richiedono tempo e il tempo non c'è ci bisogna di una forza di uno spiegamento di fuoco molto ampio e molto bene orchestrato c'è posto e lavoro per tutti un ex normalista che forse alcuni di voi li conoscono Giovanni Zagni fa il fact checker per un'associazione che si chiama Pagella Politica e che verifica i discorsi dei politici ci sono tante persone che si stanno impegnando su questo fronte Valigia Blu in tanti modi numeri immagini verifica delle fonti calcoli ricalcolo e verifica dei dati su database pubblici eccetera eccetera Valigia Blu ha fatto questo elenco un po' di tempo fa per smentire quelle che sono i luoghi comuni sui profughi sull'immigrazione e l'ha fatto usando dati Istat usando archivi giornalistici per verificare notizie e semplicemente andando a verificare i fatti un lavoro giornalistico l'articolo in alto a destra su Giapp che è la rivista dei Wuming è fatto da due ricercatori un informatico e un matematico è molto bello molto interessante non ve lo spiego perché è pieno di calcoli ma vi consiglio di andarlo a vedere e va a smentire un intervento di un blogger che sosteneva basandosi sui dati del ministro dell'interno che il femminicidio non esiste non in quanto definizione di femminicidio che uso anche io diciamo come definizione di comodo ma sosteneva che non è vero che la violenza sulle donne è andata aumentando ma che anzi è aumentata la violenza delle donne sugli uomini questi matematici utilizzando questo matematico questo informatico utilizzando gli stessi dati gli stessi database hanno mostrato come ci fosse una fallaccia di sistema proprio nell'approccio metodologico usato e per cui di fatto i dati dimostrano ovviamente l'esatto contrario ed è un paper molto interessante altrettanto interessante e un po' disarmante è il fatto che quel blog quel post del negazionista del femminicidio sia stato citato in un lavoro accademico come credibile c'è chi fa monitoraggio media come la carta di Roma che si occupa di come i media coprono l'immigrazione c'è chi fa analisi di immagini per andare a smascherare i vari meme le varie cose che girano anche su whatsapp soprattutto tra i ragazzini la nuova frontiera anche qui secondo me la normale potrebbe giocare un ruolo interessante è l'automazione del fact checking cosa vuol dire l'automazione del fact checking vuol dire visto che il lavoro è enorme avere dei robot dei programmi che ci tolgano parte diciamo del lavoro di bassa manovalanza no? fullfact che è un'associazione fact checking inglese sta lavorando ha avuto un grant con la google digital news initiative sta facendo mettendo in atto un programma che si chiama robocheck senza grande fantasia la prima fase sarà il monitoraggio in tempo reale di tutti i siti certificati che fanno fact checking per avere proprio per convogliare in un unico punto tutte le attività di verifica che vengono fatte in tutto il mondo quindi risparmiando i doppioni eccetera il secondo step è di sostanzialmente lavorare insieme all'ufficio statistico nazionale britannico in modo tale che questo programma possa andare a pescare direttamente nella banca dati e utilizzare questi dati per verificare e smascherare soprattutto le bufale diciamo basate su dati statistico numerici è una cosa come immaginerete molto lunga e molto complicata perché nelle fake news non entrano solo i numeri ma entrano anche diciamo ci sono dei codici linguistici c'è tutta una parte di informazione verbale o visiva che ha bisogno dell'intervento umano ma ci sono veramente molti programmi questo è solo uno che stanno cercando di esplorare questa modalità per velocizzare l'analisi delle fake news c'è questa questa gordata internazionale di cui vi parlavo che si chiama International Fact Checking Network a giugno ci siamo trovati a Buenos Aires per Global Fact Free eravamo oltre 100 fact checker molti ricercatori indipendenti di varie università per cui consiglio caldamente a chi si è interessato di venire a luglio a Madrid dal 5 al 7 ci sarà Global Fact 4 vi segnalo Pagella Politica dove c'è il nostro collega Giovanni Zagni e vi segnalo gente che per il fact checking rischia la pelle come quelli dei Dogruglupai che sono turchi e come immaginerete in Turchia fare fact checking non è esattamente una cosa fare il giornalismo non è esattamente ben visto fare fact checking ancora di meno e Mor Simeter quello in alto a sinistra Amso B che è il fondatore Mor Simeter è un'associazione che verificava le promesse e le dichiarazioni di Mor Si soprattutto nella fase subito dopo la rivoluzione in cui si pensava che ci fosse un'apertura nei confronti della critica anche verso il governo e Amra vive in Inghilterra da due anni e credo che non possa tornare in Egitto per il prossimo futuro in Italia lo sapete ci sono butac quindi bufale un tanto al chilo c'è disinformatico paloattivissimo c'è bufale punto net c'è valigia blu che è quello che fa un po' più di verifica dal punto di vista giornalistico e poi ci siamo nell'angolino in basso noi di fact checkers che siamo appena nati e siamo un po' diversi perché noi facciamo solo educational fact checking che vuol dire divulgazione su come insegnare a tutti a fare fact checking in prima persona ed è quello su cui io vedo anche le ragioni per un'alleanza poi normale normalisti e verificatori delle notizie con questo taglio educativo perché c'è dietro una vocazione storica della normale che è la vocazione alla formazione allo spirito critico e soprattutto la consapevolezza del ruolo che la conoscenza gioca nella formazione dei valori civili anche nella stabilità di un sistema democratico di una società democratica quindi sicuramente ci vedo un'affinità anche nel mio percorso proprio personale molto netta molto limpida probabilmente vi aspettavate una guida al fact checking o qualcosa di più sulle tecniche di fact checking quello che si può fare nella vita tutti i giorni è soprattutto quello che vedete a sinistra cioè come individuare le notizie false si usano tre cose il cervello e due occhi che fanno tre quindi al di là degli scherzi questa era una battuta di un di un collega che fa satira sulle fake news che si chiama Sean Gamboa che si autodefinisce trollionaire quindi un incrocio tra troll e billionaire non credo faccia molti soldi con queste cose ma credo che come dire il messaggio è molto preciso cioè non ci vuole tantissimo per fare fact checking bisogna tenere gli occhi aperti e usare un po' la testa nel concreto per i social e per quanto riguarda il digital ci sono quattro settori su cui bisogna far checking il primo è il sito web quello che dicevamo all'inizio verificare da dove venga e che cosa sia il sito web con cui abbiamo che fare non dare per scontato che l'apparenza sia garanzia di qualità c'è un un sistema molto semplice che è il who is se voi cercate who is ci sono una serie di motori di ricerca che vi consentono mettendo il link del sito che volete verificare vi danno le informazioni su chi l'ha creato quando l'ha creato da quanto è attivo possibilmente dove è stato registrato è chiaro che se trovate un sito che vi parla di non so report sull'Iraq ed è stato fondato l'altro ieri da un tizio che sta a Timbuktu e che non ha pubblicato niente di simile negli anni precedenti il campanello d'allarme dovrebbe suonare contro ricerca sulle blacklist quelle italiane su Butak ci sono tante blacklist internazionali di siti che sono stati verificati e sono comprovati come bufalari e questo è sempre un passaggio che vale la pena fare sui social media la prima cosa sono gli account verificati la spunta azzurra su Twitter quel bollino blu con la V Facebook ha smesso di darli ho fatto la prova l'altro giorno perché volevo farmi verificare l'account hanno sospeso il bollino blu probabilmente perché è un sistema molto difficile e macchinoso da gestire perché appunto richiede tutta una serie di verifiche supplementari e Facebook ha una potenza di cioè come dire un'ampiezza di utenti che sopravanza quella di Twitter quindi probabilmente c'è anche un problema di quel genere però primissima cosa verified accounts se c'è un tweet del ministero degli esteri egiziano storia vera che dichiara che hanno ammazzato il super terrorista più ricercato degli ultimi 20 anni e quel tweet quel Twitter account non ha il bollino blu e andate a vedere e scoprite che è stato aperto tre giorni fa ha tweetato tre volte e non ha nessun ha cinque follower non fate per favore come la maggior parte dei siti di informazione italiani che sono andati a cercare come dire la prova sui siti internazionali e sono andati in cortocircuito perché non sapevano se pubblicare o meno la notizia salvo poi scoprire per fortuna che in quel caso non era abbastanza attendibile i siti gli account Twitter delle personalità pubbliche dei giornalisti delle istituzioni sono tutti verified quindi diffidare da quelli che non hanno il bollino blu controllare i dettagli del profilo c'è la biografia quando è stato fondato quanti follower ha quante persone segue di norma un'autorità un Cass Sunstein non segue diecimila persone ne seguirà cinquanta e avrà ventimila followers ventimila è una sottostima verificate che ci sia come dire una consistenza nei dati del profilo di queste persone la cronologia hanno pubblicato la stessa cosa che si diceva per i siti hanno pubblicato notizie su quel particolare argomento negli anni precedenti sono nati l'altro ieri sono nati dieci anni fa sono rimasti in sonno sono tornati fuori solo ora magari in concomitanza con come dire un'urgenza un'emergenza tanti di questi Twitter account sono fatti per anche lì per avere dei like e per poi come dire rivendersi contatti informazioni c'è il fenomeno dei social bot di cui forse avete sentito parlare sono account totalmente falsi creati da software ci sono stati dei calcoli spaventosi su quanto della conversazione politica in America durante le elezioni sia stato generato da social account falsi creati al computer per creare movimento per rilanciare per aumentare la confusione il rumore di fondo le foto le foto sono molto divertenti con le foto potete fare un image reverse search le potete prendere spostare mettere su su google image o ancora meglio su TNAI che è un motore che vi dà anche dei dettagli aggiuntivi perché vi dà la cronologia a ritroso quindi potete sapere esattamente quando è stata la prima data di comparsa di quella foto su internet è chiaro che se come dire l'avessero fatto gli utenti che hanno condiviso la cosa del Denver Guardian e avessero visto che la foto era del 2010 mentre la notizia doveva essere del 2016 magari non avrebbero condiviso la cosa è una roba che vi richiede veramente 30 secondi a dirla tutta compreso il digitare il link e che vi salva dal condividere delle notizie non verificate i confronti con Google Street View per vedere se effettivamente il posto dove è crollata la palazzina se quella palazzina c'era lì quando Google Street View ha fatto la mappatura della strada e poi arriviamo cose più sofisticate come il controllo dei metadati EXIF che vengono usati per capire se una foto è stata ritoccata sono quelli che vi danno anche i vari livelli di elaborazione di un'immagine digitale e poi c'è il photo forensics che è quello che viene anche utilizzato diciamo nei tribunali eccetera che permette di andare un po' più nel dettaglio sui ritocchi sui video ci sono strumenti analoghi la cosa molto divertente che nessuno fa mai è di andare a vedere su YouTube banalmente i dettagli di chi ha postato quel video si può capire molto spesso chi è l'autore si può geolocalizzare il luogo dove è stato pubblicato il video si può capire se quell'autore ha pubblicato allora un video su un massacro in Siria chi è questo tizio non parliamo arabo va bene però si può capire se quello stesso utente è effettivamente stato a Damasco ha pubblicato altri video o quantomeno ha diffuso informazione su quella particolare cosa o se è un account totalmente nuovo fabbricato ad hoc e allora forse antennine diritte con la geolocalizzazione si può capire qualcosa di più anche se non è chiaramente uno strumento perfetto su diciamo l'ambiente che viene che viene rappresentato nel video ci sono delle cose molto stupide ma assolutamente efficaci le targhe e i cartelli cioè se un video c'è scritto che è stato girato a Damasco e poi uno va a vedere si prende la briga di andare a vedere le targhe delle macchine scopre che quella targa lì in realtà non è la targa che viene usata non è una targa siriana o magari non è una targa viene qualche dubbio il meteo esistono dei siti fantastici e molto accurati che vanno a ritroso anche nel tempo e vi dicono nella giornata nel 16 luglio 2014 che tempo faceva a Pisa tra le 14 e le 15 e 30 ti dicono esattamente che tempo faceva se vedi il video che come dire proclama di essere stato girato quella giornata lì a Piazza dei Cavalieri e nevicava e il 14 luglio c'era 35 gradi allora c'è qualcosa che non va stessa cosa con la luce e il buio se ti dicono che è un video delle 14 e 30 e è buio vuol dire che è stato ritoccato il video come dire pillole di consigli che però salvano da scivoloni molto grossi credo che sono arrivata alla fine sono stata un po' lunga mi scuso credo che del titolo della conferenza si capiscano due cose l'importanza del maestro e soprattutto per tenere la bufala chiusa dentro il recinto o almeno tentarei di riportarcela quindi l'educazione la formazione per arginare un fenomeno che ormai sembra dilagante nonostante tutto io sono ottimista diciamo ottimista con riserva condivido molto quello che dice Ben Thompson che è un esperto di tecnologie ha un sito molto interessante che si chiama Stratechery il problema viene da internet e la soluzione deve scarturire da internet cioè il potere del mezzo è tale che se vogliamo possiamo utilizzarlo a nostro vantaggio dobbiamo imparare come farlo però e dobbiamo far sì che tanti imparino cioè che tanti siano avvisati del rischio perché tanti non lo sanno e che tanti capiscano che insieme al rischio ci sono anche gli strumenti per arginarlo in qualche modo del titolo manca una parte che è l'algoritmo immagino che molti scienziati che sono venuti qui si aspettassero qualcosa di più in quel senso e era una bufala nel senso che da umanista non tornerei mai normale a parlare di algoritmi e di strumenti scientifici perché rischierei lapidazione in pubblica piazza quindi io chiudo qua sono a disposizione ovviamente di domande contestazioni e quant'altro lì trovate il mio sito il sito dell'associazione che è ancora molto basic è una landing page l'account twitter e insomma io ho finito se avete domande su fact checking giornalismo e cosa vuol dire passare dalla teoria e critica del cinema degli audiovisivi a vivere in sud sudanio sono qua e vi ringrazio per l'attenzione è complicato questa è un'ovvietà diciamo ma il punto di partenza di quello che volevo dire mi sembra però che il punto di fondo che rimane è il seguente e su questo vorrei un commento che per utilizzare informazione per essere avvertiti e quant'altro sia che uno legga un libro in qualunque altra maniera è necessaria una certa fatica e c'è una quantità minima indispensabile di lavoro e di fatica che è ineliminabile e che nessuno strumento riuscirà ad eliminare perché è assolutamente vero che aumentiamo l'informazione però contemporaneamente allora ne dobbiamo eliminare di più e quindi la fatica aumenta io credo che la cosa che vada insegnata è che non è che la tecnologia risolve il problema di pensare o di fare fatica per imparare le cose rende più facile avere maggiore accesso informazione ma non può rendere più facile il fatto che se io voglio essere consapevole di una cosa devo fare una certa fatica per dominarla e io volevo un commento su questo io su questo sono assolutamente d'accordo e credo che sia proprio anche un problema di un problema sociale molto più vasto in realtà che va oltre il fact checking che comprende la media literacy comprende anche se vogliamo tutti i cambiamenti di cui siamo perfettamente consapevoli che avvengono a livello educativo banalmente dai bambinetti più piccoli ai ragazzi che entrano all'università insomma l'idea che sia tutto a disposizione faccio un riferimento molto stupido se vogliamo quando eravamo quando eravamo piccoli noi si andava in biblioteca per farle cioè è una banalità stra banale ma per fare la ricerca di educazione tecnica andavi in biblioteca prendevi l'enciclopedia i ragazzi del corso ordinario diranno questa è una vecchia carampana ma è vero parlavo con alcuni dei miei ex colleghi parlavo anzi con il mio ex relatore stamattina mi diceva è uno dei problemi che io ho in classe adesso è che le prime file stanno attenti quelle dietro sono a spippolare sullo smartphone e gli ho detto prof quando eravamo noi suoi studenti a limitare nel file dietro ci si abbioccava che può essere una distrazione ma non è una distrazione perenne e soprattutto non c'è sotteso quello che diceva giustamente il direttore che è l'idea che sia tutto lì a disponibile di portata di mano per cui io la fatica non la devo neanche fare se voglio diciamo che chi ha delle ambizioni superiori come si spera che sia chi arriva in normale è anche consapevole del rischio del plagio da wikipedia e per cui magari fa uno sforzo in più non dobbiamo dare per scontato che sia così purtroppo noi ci siamo abituati la generazione che arriva immediatamente dopo la mia ad avere una fruizione immediata sono perfettamente d'accordo del fatto che si debba tornare a insegnare la fatica della conoscenza che è una cosa molto scomoda da dire e che probabilmente verrà rifiutata sono anche convinta che come dire l'implosione del sistema della conoscenza a cui stiamo assistendo perché da giornalista io veramente lo definisco un'implosione del sistema il rifiuto del come dire di quelle che potevano essere le autorità costituite un tempo i giornali i punti di riferimento accademici eccetera c'è questa tendenza al cercare la controinformazione la teoria alternativa questo sta portando a un'implosione del sistema perché nel momento in cui si nega una piattaforma di autorevolezza di riferimento vuol dire che il sistema crolla forse da questo crolla a un certo punto ci partirà un ripensamento forse a furia di come dire abbassare la qualità della nostra conoscenza ci si rendrà conto che come dire è autolesionistico come processo io credo moltissimo nel fatto che anche questa è una teoria scomoda in Italia visto l'andazzo ma che gli insegnanti gli educatori debbano rivestire un ruolo cioè tornare a rivestire un ruolo centrale in questo senso se le famiglie non sono in grado di farlo e sappiamo tutti benissimo purtroppo che le famiglie non sono in grado di farlo molte di loro credo che sì cioè tornare al concetto di guadagnarsi la conoscenza sia fondamentale il fact checking è una fatica cioè non è divertente anche io mi divertirei a condividere Abramo Lincoln oppure cos'è quella che aveva condiviso Mario sulla pagina facebook della scuola su Ruggero Acque che va in giro per il mondo ad abbattere muri ed è la foto di Roger Waters che è divertente è divertente ma è dannoso e forse se ciascuno di noi si prendesse la briga di fare un po' più di fatica nel modo anche personale di fruire e di condividere le notizie sarebbe sarebbe già un passetto avanti non so se ho risposto o ho centrato l'argomento io non credo che ci sia una risposta comunque ne avrei molte altre domande ma mi fermo qua per cui se ci sono domande da parte vostra buonasera io sono qua come educatrice di scuola media sono un'insegnante di scuola media sono venuta prima di tutto perché è sempre un piacere sedere qua è veramente da una parte edificante però dall'altra mi porto dietro sempre qualcosa di molto importante che cerco di calare nella mia realtà quotidiana e stasera mi sento con tutto quello che ha detto mi sento veramente invitata a nozze nel senso che le ultime parole veramente sono una conferma per molti che la pensano come me cioè quello di ritrovare ritrovare nel nostro nella nostra quotidianità la parola sacrificio alla quale noi siamo molto abituati come anziani come mi ritengo io cioè adulti così però la gioventù cioè i ragazzini che sono a scuola oggi sono sollecitati a non fare più fatica e noi stessi siamo spinti dai genitori a trovare il sistema perché il sacrificio non sia non faccia parte del loro vocabolario ora io vengo alla domanda ho sentito prima questa considerazione che fare alleanza cercare alleanze fra giornalisti accademici educatori e quindi chiedo per esempio nella nostra in tutte le scuole non solo nel nostro comprensivo ormai da qualche anno si invitano si fanno progetti con la polizia postale per aiutare questi ragazzi ma questo per evitare che appunto non ci sia un abuso eccetera eccetera quello che mi preoccupa in realtà è che noi oltre ad aiutare i nostri ragazzi ad essere ad acquisire questo spirito critico almeno quando già escono dalla terza media perché è molto importante già questo sarebbe un obiettivo veramente il problema è che noi almeno la vecchia guardia come io mi ritengo cioè io mi ritengo appunto in questa categoria noi stessi combattiamo con la diffusione del tablet che è sempre più cioè è sempre più diffuso soprattutto fra i colleghi cioè i giovani e quindi vedo tanti scusatemi ma io devo dire che io sono un amante del libro sono un amante della carta sono un amante della sottolineatura no forse sono un amante della sottolineatura perché da più parti sento anche genitori docenti per esempio dell'università uno ieri sera me lo diceva porterà il figlio da noi in prima media voleva accertarsi di questo perché purtroppo il problema è che il problema è quello della comprensione del testo allora e torno a collegarmi con questo bell'argomento che lei ha trattato se già c'è questa difficoltà la comprensione del testo e soprattutto il nuovo valore educativo che si diffonde è quello di far presto ottimizzare i tempi avere la ricerca bella e pronta dico come si fa a costruire chiedo ecco quali potrebbero essere lo chiedo agli accademici proprio e a lei come giornalista freelance mi pare che è freelance perché da noi per esempio si fa anche giornale cioè da noi noi ora è diffuso nelle varie scuole partecipiamo a questi progetti eccetera e quindi non si può fare tutto però tanto si può fare quindi allora dico quali consigli lei può dare agli educatori come noi per costruire queste alleanze concretamente ecco dico perché effettivamente io sono anche una vittima delle bufale per l'amor del cielo però forse un po' meno perché qualcosa ma i nostri ragazzi sì lo sono io le dico subito cosa potete fare concretamente invitateci a fare un intervento a scuola noi come associazione facciamo quello facciamo dei moduli adesso ci stiamo concentrando sulle medie e sulle superiori spero che ci sarà anche una collaborazione poi con la con la scuola e con gli alunni della scuola ma al di là della della butad stiamo lavorando anche a dei pacchetti di materiale che verranno forniti il 2 aprile sarà la prima giornata mondiale dei fact checkers e ci saranno delle iniziative in tutto il mondo io ho la sciagurata io io ho la sciagurata come dire responsabilità di raccogliere e coordinare il materiale proprio per gli educatori a livello mondiale e le varie traduzioni quindi per il 2 aprile ci sarà sicuramente materiale disponibile online ma noi come associazione teniamo laboratori e moduli tornerò tra l'altro a Pisa in università a marzo per la parte proprio più laboratoriale concreta secondo me la cosa fondamentale da far capire è una ed è molto semplice ed è quello che ha detto lei alla fine dire ai ragazzi che non vi stiamo dicendo io su questo un po' mi discosto perché non credo nell'efficacia non so se se poi lei è d'accordo o meno non credo più nell'efficacia di andare a dire dovete tornare a leggere i libri dovete tornare a leggere i giornali che è purtroppo l'atteggiamento molto diffuso tra varie associazioni che fanno media literacy mettere i giornali in mano ai ragazzi io ci ho anche lavorato per cui so di cosa si parla i ragazzi il giornale non lo leggono tu glielo puoi regalare ma non lo leggo più neanch'io che sono una giornalista non come dire c'è questa cosa qua cioè siamo sommersi da informazioni non c'è più tempo non c'è più e soprattutto non gli si può dire credete a quello che dicono i giornali il Tg eccetera perché l'abbiamo visto che non è vero io ai ragazzi dico non credete a quello che leggete sui giornali su internet sulla televisione o meglio prima di credere queste sono le chiavi della macchina prendiamo la patente poi se volete guidare andare a sbattere contro l'albero a fare i vostri però intanto noi vi insegniamo a guidare per un adolescente per un ragazzino non sentirsi dire non devi credere a questo ma sentirsi dire ti dico come fare a capire e stai attento che ti stanno fregando e stai attento che se condividi la notizia falsa non ti stai informando stai dando soldi a un tizio che ha capito che ti può infinocchiare sulla psicologia di un ragazzo ha molta più presa far capire che è la vittima di qualcuno che si sta facendo soldi e si sta facendo propaganda politica che non stare a dire ci sono le fonti di informazione credibili e ci sono quelle non credibili perché il mondo è talmente confuso che ci sarà sempre come dire un momento in cui le fonti credibili verranno tanate e verranno messe all'angolo io credo molto di più nel responsabilizzare e nel formare quello che gli inglesi chiamano scusa io purtroppo questa cosa come dire la simpatia per la lingua inglese però l'empowerment no? proprio il dare le chiavi in mano e dare potere ma anche responsabilità a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità diceva Lomoranio io volevo chiedere una cosa riguardo una cosa molto interessante che ha detto prima cioè che molte persone scelgono di condividere la bufala perché questa provoca in loro una reazione emotiva specie per quanto riguarda bufale politiche e fake news a questo punto io mi chiedo se il fact checking che di per sé è un atto puramente razionale possa davvero per quanto fatto per quante persone ci lavorino infrangere il muro della bolla e delle echo chamber se il fact checking non è in grado di suscitare una reazione emotiva anch'essa nella persona che altrimenti condividerebbe il fake news e questa reazione è possibile fare fact checking e fare in modo che questo fact checking provochi una reazione emotiva abbastanza forte da contrastare quella della fake news costruita ad arte proprio con quello scopo questa è un'ottima domanda e la risposta è no che siamo siamo sul lato pessimista diciamo no ma con riserva in questo senso nel senso che io credo che ci siano purtroppo delle come in ogni fenomeno cognitivo e anche in ogni fenomeno sociale ci sono diciamo delle fringe delle frange estreme che non potremo mai andare a toccare ci sono delle convinzioni talmente radicate delle identità personali talmente forti che si basano proprio anche su convinzioni errate ma che non si può scalzare in nessun modo due risposte per andare a intaccare quella che è la parte il segmento centrale diciamo no quello che è ancora forse in bilico sul fattore emotivo sono perfettamente d'accordo che sia estremamente difficile da intercettare con le armi della razionalità credo che la risposta che davo prima per i ragazzi e per gli adolescenti sia molto sensata anche in questo campo cioè cosa c'è di più forte dal punto di vista emotivo che sentirti dire guarda che ti stanno usando perché se lo spunto da cui tu parti per condividere una notizia complottista è che tu sei più intelligente degli altri e poi io ti vengo a dire guarda che però sotto questi qua con il sito su altervista ci stanno facendo i soldi sei sicuro ti hanno detto che è informazione gratuita ti hanno detto che è controinformazione che loro non funzionano come gli altri questo secondo me dal punto di vista emotivo ha una valenza molto forte e poi dal punto di vista razionale anche lì non si potrà andare ad intaccare diciamo quelle che sono le credenze più radicali ma ci sono molte cose che come dicevi tu vengono condivise proprio sull'onda dell'emotività e come tutti sappiamo c'è l'ondata iniziale e poi c'è il momento di presa d'atto un esempio molto interessante potrete parlarne anche con la prossima relatrice perché Laura Boldrini è stata come sapete al centro di come dire un fenomeno molto molto grave che è quello dello hate speech e degli insulti su Facebook il mettere di fronte alla realtà dei fatti lei l'ha fatto in maniera molto se vogliamo anche come dire diretta quasi brutale quindi diffondendo anche coinvolgendo direttamente le persone che è chiaro che qui stiamo parlando di una figura pubblica e magari nel quotidiano non lo possiamo fare ma la persona che sull'ondata della rabbia antisistema condivide la bufala del fatto che i soldi per i terremotati sono spariti perché sono stati dati per salvare Monte dei Paschi di Siena che non è vero è una bufala che è stata smentita sono stati titoli gonfiati ad arte non sto dicendo che i soldi sono andati nella ricostruzione perché non è vero neanche quello ma i soldi sono fermi poi possiamo discutere finché vogliamo sul fatto che i soldi non dovessero star fermi ma sono livelli di verità profondamente diversi su questo gradiente di verità si può andare secondo me a smontare come dire l'impulso emotivo e riportare nel seminato di una discussione razionale per cui non ti sto dicendo sei un cretino non è vera questa cosa ti sto dicendo sì è vero che non sono stati ancora utilizzati per la ricostruzione ma guarda che il quotidiano online che ha scritto che i soldi sono andati in tasca alle banche ha fatto misinformation quel titolo era sbagliato era fuorviante e perché l'ha fatto perché se tu sei già arrabbiato con il governo e hai di fronte due giornali aperti o due link su google news e uno ti dice i soldi del terremoto sono andati in tasca alle banche e un altro che ti dice i soldi del terremoto non sono ancora stati sbloccati a causa di un vizio di forma su quale clicchi e a chi dai i tuoi two cents della notizia del link aperto e condiviso che vanno nell'advertisement eccetera eccetera su questo secondo me tanti dei dibattiti fermo restando che secondo me i dibattiti su facebook sono ormai un campo minato e che è meglio parlarne di persona perché il livello di insulti e di violenza verbale purtroppo non mediato dalla presenza fisica su facebook è drammatico però questi sono discorsi che si possono fare e che vanno ad agire su quell'area come dire di crepuscolo tra l'emotivo e il razionale e soprattutto sul tuo orgoglio personale di dire ma mi sto facendo strumentalizzare non so se ho risposto alla tua domanda una brevissima riflessione una domanda e una proposta la brevissima riflessione è sulla proprio sulla questione della su quest'ultima questione che lei stava trattando adesso ed è legata anche alla domanda tempo fa ho avuto l'occasione di parlare con una persona che si è dedicata dopo aver fatto per molto tempo aver avuto per molto tempo dei ruoli politici si è dedicata ad una società proprio messo in piedi una società che verifica la reputazione su internet delle delle persone cioè ci sono persone che si rivolgono a questa società chiedono di sapere qual è la reputazione su internet e nel commentare sull'utilità di questo tipo di strumento questa persona esperta mi diceva che secondo lei alla fine la reputazione che viene costruita bene o male anche su internet in questa maniera così ampia e così veloce che si diceva prima ma anche sui social in realtà poi va ad adagiarsi sulla reputazione reale cioè qualunque esagerazione che venga costruita nel bene e nel male è destinata poi a svanire è un concetto molto interessante anche da un punto di vista diciamo fisico diciamo anche delle scienze naturali per così dire volevo chiederle questa è la domanda volevo chiederle cosa ne pensa lei e secondo lei appunto a che grado di verità c'è in questa affermazione la brevissima riflessione è sul fatto che secondo me non è che si siano siano peggiorati sia peggiorata la qualità delle abilità relazionali tra le persone in fondo è anche di questo che stiamo parlando c'è sempre stato un problema educativo da questo punto di vista certo è che il mezzo un mezzo che ti consente di essere dall'altra parte del globo in un anno secondo chiaramente ha un effetto devastante se contemporaneamente non riesci ad accendere lo spirito critico come commentava prima il direttore quindi è chiaro che bisogna fare un tipo di sforzo ancora più grande come diceva lei sul fronte educativo e qui arriva la proposta sono assessora all'istruzione e all'educazione del comune di Pisa qui ci sono diversi docenti di ogni ordine scuola una l'abbiamo appena ascoltata delle scuole Fucini ma c'è anche un docente di scuola superiore la proposta è di costruire un percorso educativo formativo diciamo sistematico e diffuso in città con la collaborazione dell'associazione cominciando a lavorare adesso nella progettazione per iniziare nel prossimo anno educativo perché io credo che veramente lavorando su questo tema si possa lavorare contemporaneamente su tante competenze trasversali che bisogna ricominciare a costruire nei nostri luoghi educativi a partire dalle persone più piccole ma senza dimenticare gli adulti perché molto spesso noi naturalmente tendiamo a pensare l'educazione per i più piccoli in realtà almeno anche insomma in Toscana sicuramente questo accade ma anche in molte parti d'Italia ci sono già percorsi educativi su questo fronte per i piccoli per gli adulti è anche molto più difficile raggiungerli parto dalla fine assolutamente aderiamo anzi accolgo l'invito anche a nome dell'associazione mi sembra sono d'accordo sulla necessità di una come dire di spalmare questo tipo di riflessioni a livello proprio anche verticale nelle fasce d'età negli ultimi mesi ci hanno contattato tante scuole ma ci hanno contattato anche tanti gruppi di adulti aziende per ragionare appunto su come le fake news possono andare ad impattare sulla reputazione eccetera eccetera e sarebbe molto bello se ci fosse un progetto organico per come dire coinvolgere tutta la cittadinanza perché io l'ho detto più volte continuo a ripeterlo questo è un problema cruciale per la formazione dello spirito di cittadinanza quindi è il nostro ruolo come cittadini attivi proattivi e responsabili io credo che questo sia veramente il tema centrale lo era della media literacy in generale lo è stato negli anni passati lo è ancora di più adesso che c'è questa emergenza amplificata dalle nuove tecnologie quindi poi sicuramente ne parleremo molto volentieri e spero appunto che la scuola abbia anche in questo un ruolo centrale perché appunto credo molto in questa continuità della tradizione dello spirito con cui è nata insomma la considerazione su come se e come sono cambiate le interazioni personali io sono un po' più pessimista nel senso che credo che questa mancanza di filtri che noi vediamo su facebook non sempre si travasa nella realtà nel senso che io finora non ho visto per fortuna gente prendersi a cazzotti o a insulti per strada basandosi su un commento di facebook credo però che alla lunga l'abituarsi all'utilizzo dell'insulto della mancanza di mediazione e di argomentazione a cui ci stanno abituando queste botta risposta immediati sui social perché c'è anche questo stimolo all'intervenire a reagire subito perché altrimenti ah non sta zitto non risponde parlo dei forum un po' più concitati cioè per fortuna noi forse nelle nostre filter bubbles siamo un po' più salvi ma vi assicuro che se uno esce dalla propria cameretta dei segreti di facebook si trovano delle cose assolutamente agghiaccianti se avete letto quello che sta succedendo in questi giorni sull'utilizzo delle foto di donne ignare nei forum diciamo posso dirlo di pervertiti ma non sono neanche pervertiti sono probabilmente ragazzi normali che trovano sfogo a quello che una volta era magari un retro pensiero o una butade che si faceva con gli amici adesso è diventato dicibile è diventato scrivibile è diventato un argomento di discussione e di socializzazione socializzazione con sconosciuti questo secondo me è un passaggio di cui ancora non ci siamo forse resi conto ma che temo abbia delle ripercussioni pratiche anche poi nella modalità della discussione nella vita reale e già ha delle ripercussioni non parlo di politica perché non voglio parlare di politica ma se pensiamo al dibattito politico anche in Italia negli ultimi mesi forse ci renderemo conto che alcune delle modalità di confronto e di discussione e di rifiuto della complessità e della pluralità dei punti di vista che abbiamo visto sui social purtroppo si stanno riversando anche nella vita reale o sono sempre più presenti nella vita reale per quanto riguarda la reputazione la social media reputation e l'immagine il sovrapporsi o meno delle due immagini io credo che dipenda molto dagli ambiti in cui una persona si muove credo che in ambito accademico come dire il gioco cade subito nel senso che fortunatamente ci sono degli strumenti di valutazione che non si basano sulla social media reputation o su quanto uno riesca a ripulire i propri profili eccetera eccetera penso già per esempio che se parliamo di mondo dello spettacolo del gossip eccetera o di fenomeni social o di personaggi che sono che poi come dire comete che attraversano le cronache spicciole credo che in quel caso purtroppo avvenga esattamente il contrario che in mancanza di un corpus di riferimento che può essere nel caso accademico appunto una track record di quello che uno ha fatto ha scritto ha prodotto eccetera la gente vada a cercare automaticamente quello che è comparso in internet e quindi quello che è il meccanismo di verifica che noi facciamo sulla produzione reale in questo caso diventa verifica sull'impronta virtuale quindi credo che ci siano veramente anche lì delle sfumature molto diverse diciamo le figure istituzionali che hanno degli strumenti di valutazione dell'operato che in qualche modo vivono di vita propria se stante quindi le produzioni scientifiche la carriera politica documentata sono ancora come dire tutelate da questo meccanismo nel momento in cui entriamo in un reame un po' meno un po' meno codificato a questo punto internet e quindi le tracce che noi lasciamo su internet diventano veramente la nostra carta d'identità anche per il mondo reale e questo è un altro fenomeno che forse tante persone non hanno ancora realizzato e che rischia essere un boomerang non indifferente Salve volevo fare una domanda io ho seguito abbastanza da vicino il ciclo elettorale americano quest'anno anche perché avendo votato poi mi ha toccato personalmente e ecco una cosa che ho notato in generale sia in ragazzi americani della mia età ma insomma in generale nella popolazione americana abbiamo una disaffezione fortissima verso il cosiddetto mainstream media cioè gli organi diciamo di informazione tradizionali e quindi le volevo chiedere ecco se secondo lei questa disaffezione e la corrispondente crescita appunto di fake news di boll o di partisan news ecco di notizie a cui uno fa piacere ascoltare quello che appunto danno d'accordo sono d'accordo con loro abbia una relazione diciamo di causa o effetto nel senso che appunto la crescita di queste fake news sono un effetto di una disaffezione che diciamo c'è già nel confronto nei confronti diciamo degli organi di formazione tradizionali oppure diciamo è una causa ecco cioè quindi alimentando l'odio appunto come faceva vedere Alex Jones non so qual era che cita appunto che ne so il New York Times come fake news appunto quindi stanno causando una disaffezione verso l'informazione e cosa si può fare per contrastare ecco queste idee che circolano nella popolazione più generale un'ottima domanda io credo che non credo che ci sia come dire un legame molto ben definito un po' come la storia dell'uovo e della gallina ed è lo stesso discorso che abbiamo fatto per tanti anni nel giornalismo su insomma cos'è che è nato prima il gossip nei mass media diciamo seri per attirare l'attenzione cioè stiamo noi dando abituando i lettori a leggere notizie leggere frivole eccetera non serie o sono loro che ce la stanno chiedendo cioè da dove è partito l'impulso prima è molto difficile sono dei cicli che in qualche modo si autoalimentano nel tentativo anche di esplorare nuove modalità di sopravvivenza per dei mercati che sono diventati asfittici che sono diventati perché sono diventati asfittici lì credo che si davvero centri molto anche il come dire il mutamento della tecnologia del mezzo dello strumento a cui i giornali non sono stati in grado di star dietro in maniera proattiva immediata io non credo che le fake news soprattutto in ambito elettorale nascano dalla sfiducia nei mass media credo che la sfiducia nei mass media sia un fenomeno che come dire procede in maniera più o meno indipendente le fake news hanno semplicemente trovato come dicevo all'inizio sono probabilmente quelle che erano le voci quelle che dicevamo un po' le voci di corridoio del popolino che magari una volta non leggeva il New York Times non leggeva il Washington Post ma la conspiracy theory la condivideva mentre si beveva una birra dopo aver finito di lavorare la sera e lì si fermava il contenitore di internet è diventato un amplificatore di questo fenomeno che già esisteva per quanto riguarda le nuove generazioni americane la mia impressione è che un po' come succede qui ci sia stato un grande innamoramento per lo spazio di internet come spazio di cittadinanza alternativa mi spiego in un contesto in cui come dire la militanza politica ha perso i connotati perché è cambiata la definizione di militanza politica è cambiata la definizione di adesione o meno a un partito si è spostata dalle piazze reali sempre di più alle piazze virtuali parlo di grandi numeri non parlo di fenomeni come Occupy Wall Street che comunque ci sono e sono stati molto importanti o adesso di Black Lives Matter diciamo ci saranno comunque dei diciamo degli hardcore groups che possono essere quelli appunto di Black Lives Matter che sanno integrare i due strumenti quindi la volontà di fare attività politica attivismo e l'utilizzo dello strumento senza farsi fagocitare dello strumento ci sarà una fascia più generale che trasferisce sulla tastiera quello che poteva essere la voglia di impegnarsi la voglia di condividere di comunicare un po' come quando si dice i leoni da tastiera che sono tutti pronti a schierarsi per salvare le balene in Antartide facendo il click sulla petizione di Greenpeace e che però magari nella vita reale non si occupano per niente del problema c'è un po' uno spostamento un ricollocarsi su un attivismo virtuale quello sì e l'attivismo virtuale è per sua definizione un fenomeno che ha bisogno di luoghi di incontro che non si identificano con i media mainstream perché i media mainstream appunto il Post il New York Times non sono luoghi di discussione polarizzata partigiana credo che le nuove generazioni vadano un po' a cercare quello quello che una volta quando ero a Pisa si andava non so a prendersi una birra vabbè c'era ancora il vecchio macchianera noi discutevamo all'epoca diciamo nei nostri anni di ribellione giovanile si andava al centro sociale e ti mettevi nel gruppo oppure insomma a seconda delle delle inclinazioni personali adesso complice anche il fatto che poi la società americana è una società molto particolare in cui c'è un tasso di mobilità geografica molto alta in cui è incentivato la creazione di reti di interazione di comunicazione virtuali proprio per sua stessa natura no mi sembra io non conosco specificamente l'elettorato giovane non mi sono mai occupata di quello ma mi viene da dire che ci sia un po' un insieme di tutte queste cose cosa si può fare secondo me per esempio la ricerca di BuzzFeed è molto interessante cioè io se fossi un giovane elettore americano che si rende conto che il mio sito la mia pagina pro Hillary hyper partisan a cui ho sempre dato cieca fiducia convinto che perché noi siamo i buoni che le notizie condivise siano notizie vere verificate che magari non trovano spazio nei mainstream media perché anche noi abbiamo l'idea della conspiracy theory eccetera eccetera si inizia a vedere che il 14% delle notizie sono false e che il 20% sono non mi ricordo più esattamente i dati ma comunque eravamo intorno al 30% del totale contengono un misto di verità e di falsità forse inizi anche lì a farti delle domande sul tuo come dire il tuo aderire in maniera univoca ed esclusiva a quel tipo di comunicazione c'è un lavoro secondo me da fare molto sottile in questo senso e poi chiudo tornando ancora al movimento Black Lives Matter e ne ho discusso molto spesso con dei colleghi che ne sanno molto di più di me quello è un esempio di come un movimento nato nelle piazze con possibile rischio di deriva violenta sia riuscito a rimbrigliare tutte queste pulsioni utilizzando in maniera proattiva e in maniera molto rigida molto regolamentata al suo interno i social network e i media digitali per creare una coesione per riportare tutto cioè quando Black Lives Matter è esploso poteva essere un nuovo post Rodney King potevano essere massacri veri nelle strade non c'è stata questa cosa ci sono stati vari lupi solitari ci sono state sparatorie c'è sempre stata un'attenzione capillare da parte del movimento a non far deragliare il discorso da quello che erano i binari del democraticamente accettabile e del civile quella secondo me è una lezione molto importante per tutti i tipi di attivismo politico che si debbano confrontare con questo nuovo strumento ma con questa realtà delle cose e con questo utilizzo dello strumento digitale non so se ho risposto grazie buonasera io sono un phd della scuola superiore sant'anno in diritto costituzionale quindi mi scuso non vorrei annoiarvi però la mia domanda verte sulla possibilità di un intervento legislativo che si sta paventando in italia l'ha fatto il ministro orlando ma anche a livello di un'unione europea perché ci siamo accorti finalmente in italia che facebook è un mezzo di comunicazione è un mezzo di diffusione dell'informazione il rapporto censis-uxi del 2015 ha rilevato che il 42% degli italiani si informa mediante facebook la percentuale cresce al 70% per i giovani under 30 quindi è esattamente un mezzo di comunicazione come la radio come la televisione come sono i giornali che sono regolamentati nel nostro paese facebook non lo è ancora riprendo brevemente il discorso di Cass Sunstein che nel suo libro On Rumors parlava appunto dell'opportunità dato il fenomeno della viralità sui social network della diffusione delle false notizie di trovare un mezzo in qualche modo per arginarle censurarle allora il problema negli Stati Uniti è amplissimo perché hanno un diverso concetto di libertà di manifestazione del pensiero e oggi addirittura ci sono alcune corti federali non ancora la corte suprema e alcune corti statali che considerano gli algoritmi e i logaritmi scusate se sono impreciso nessuna offesa per i colleghi normalisti che si occupano di queste cose non voglio dire castronerie però l'indicizzazione delle ricerche sui motori di ricerca sui social network e quindi i logaritmi che vengono usati come libertà di manifestazione del pensiero quindi non sarebbe possibile se questi orientamenti giurisprudenziali dovessero affermarsi negli Stati Uniti alcuna forma di censura tutela di questo tipo di fake news manifestazione del pensiero come loro le considerano in Italia la cosa è diversa così come in Europa cioè noi non abbiamo questo concetto diciamo così assoluto della libertà di manifestazione del pensiero e forse strumenti già esistono la nostra corte costituzionale ha già salvato in passato la disposizione dalla diffusione di false notizie che è un reato appunto che prevede una sanzione pecuniaria quindi probabilmente inutile dati i grandi guadagni attraverso il clickbaiting però senza utilizzare la clava del diritto penale mi chiedevo se secondo lei appunto perché il fact checking mi sembra che sia abbastanza debole soprattutto sui social network non sia necessario da una parte valorizzare quelle disposizioni del codice deontologico dei giornalisti in particolare l'articolo 2 che prevede la necessità che i giornalisti controllino le fonti dell'informazione e magari aggravare le sanzioni qualora dei giornali e dei professionisti dell'informazione riprendano sui propri mezzi di comunicazione delle bufale e dall'altra parte non sia necessario in qualche modo imporre considerando facebook e twitter come mezzi di comunicazione anche a loro la disciplina dell'obbligo di rettifica quello a cui pensavo io è ad esempio imporre a facebook o a twitter ad esempio la riproposizione sulla bacheca della persona che ha diffuso una falsa notizia magari anche in buona fede della rettifica fatta ovviamente da organi da organi diciamo statali o parastatali come può essere l'ordine del giornalista perché l'altro problema di delegare come attualmente stiamo facendo a facebook la possibilità di dire segnalo una notizia falsa la rimuovo è la privatizzazione della censura cioè il rischio lì è serio sulla libertà di manifestazione del pensiero grazie grazie a te per la domanda sarò quattro punti allora il primo assolutamente sono d'accordo sull'inasprimento delle pene per i giornalisti nel senso che allo stato attuale delle cose a meno che non ci siano cause aperte da terzi l'ordine dei giornalisti di fatto non sanziona se qualcuno di voi ha familiarità con alcune delle cose che sono state pubblicate per esempio da Feltri e dal suo giornale negli ultimi anni che avevano alcune di queste possono tranquillamente essere ritenute come una violazione gravissima dei codici deontologici dei giornalisti Feltri ancora al suo posto non è mai neanche stato sanzionato dall'ordine parliamo di Renato Farina alias nome in codice agente Betulla sono pienamente d'accordo con te c'è un piccolo problema che io non sono d'accordo sul fatto che Twitter e Facebook siano mezzi di informazione sono mezzi di condivisione di informazione ma in quanto tali non nascono come allora a parte come dire il problema dal punto di vista normativo enorme e insormontabile di trovare un codice univoco a livello mondiale vi ricordo che l'Italia per esempio è uno dei pochi paesi al mondo che ha un ordine dei giornalisti di lasciato peraltro fascista e dei codici deontologici diciamo trasversali adottati a livello di ordine nazionale che non vengono applicati peraltro in altri paesi per fare il giornalista tu non hai bisogno di passare un esame di stato vengono implementate delle sanzioni nel momento in cui vengano infrante delle cose però immaginatevi cosa vorrebbe dire anche solo a livello giornalistico implementare un codice globale quando ci sono delle disparità di questo tipo ripeto Facebook e Twitter non producono informazione e notizie sono dei veicoli Whatsapp come facciamo sanzioniamo Whatsapp perché in una catena di Sant'Antonio su Whatsapp che è uno strumento ripeto è un tubo dove passa cioè passa il proiettile nel tubo dovresti sanzionare la persona che spara il proiettile se va a colpire qualcuno alla fine del tubo non il tubo cioè il tubo è inerte non ha possibilità di intercettarla ma al di là delle metafore così un po' un po' ardite c'è un problema enorme qui di entrare in una stanza piena di cristalli che è il problema della censura cioè la censura preventiva io personalmente sono contraria nella maniera più totale le teorie cospirazioniste nascono dalla censura censurare una notizia non vuol dire togliere la notizia dalla circolazione vuol dire impedire che esca in quel dato momento su quel dato medium ma troverà un'altra strada rinforzare le regole su chi ha sottoscritto e aderito a dei codici ben precisi che ne fanno un professionista dell'informazione però non un social network in cui condivido la foto del mio gatto e poi condivido una notizia prodotta da terzi immaginatevi quante persone quanti esseri umani dovrebbero lavorare in quante lingue diverse per garantire un filtro effettivo alle notizie che circolano su facebook è impossibile e chi decide che quella notizia è vera e falsa il colpo di stato in turchia non era un colpo di stato è stato messo è stato inventato da erdogan è stato concesso scusatemi da erdogan che ha tollerato lo svilupparsi di questa cospirazione dei generali per rafforzare il proprio potere interno in italia questa è una notizia in turchia questo è un reato come si fa chiudiamo facebook in turchia perché ha pubblicato perché qualcuno ha linkato un articolo del guardian in cui si sostiene che il colpo di stato in realtà è stata una manovra interna per rafforzare il potere di erdogan non se ne esce non se ne esce non sto dando delle buone notizie qui sto dicendo una realtà quindi censura assolutamente no non è effettiva non è come dire reinforceable non si può non si può mettere in atto anche volendo non si può mettere in atto non voglio pensare che siamo in una società che si autocostringe a nascondere le notizie o a limitare la libertà di espressione per potersi dire sicura non credo che sia questo lo strumento non credo che lo spirito civico e come dire la partecipazione democratica si rafforzino impedendo l'intervento di poi tornando al discorso di facebook e di twitter quello che dicevi della modalità di verifica delle fake news su facebook intanto è un progetto che è stato lanciato e bisognerà vedere come si sviluppa non è una commercializzazione della verifica delle notizie anche perché facebook di fatto non metterà dei team dedicati a fare questa cosa è una proposta di collaborazione con degli agenti terzi degli enti terzi se credo che funzionerà no non credo che funzionerà per questo io continuo a insistere sulla responsabilità del singolo perché credo che per come questi strumenti di condivisione che non sono ripeto mezzi di informazione non nascono per quello sono strutturati non abbiamo molte altre alternative davvero se ci pensate i filtri per intercettare le notizie false automatici potranno fare qualcosa ma ci sarà sempre una responsabilità umana alla fine e se pensiamo che google e facebook possano mettere plotoni di verificatori di notizie per intercettare la qualunque che passa di lì anche nel migliore dei mondi in cui riuscissero a farlo la gente li condividerà su imgur li condividerà su su snapchat e il snapchat si autocancella alla fine della pubblicazione di ogni messaggio come fai a portare in tribunale uno che dice oh ragazzi magari l'ho detto ma trovalo mi ha insultato il messaggio su snapchat si autocancella è come nelle storie degli agenti segreti ma al di là della battuta è molto più complicato di così gli strumenti legali che abbiamo a disposizione adesso sarò io che sono pessimista non conosco abbastanza il tema ma credo che veramente tanto quanto noi non siamo riusciti a stare al passo dal punto di vista giornalistico altrettanto non riusciranno a stare al passo nel breve termine su quello che sta succedendo altro discorso è il hate speech e la diffamazione totalmente altro discorso ci sono dei casi giuris dei casi tuttora aperti se non sbaglio uno coinvolge una giornalista all'unità che sono sfociati in un procedimento penale per diffamazione però anche lì se non sbaglio ci sono delle caville e delle postille che hanno fatto sì che questa cosa si trascini all'infinito perché bisogna dimostrare innanzitutto che la diffamazione è pubblica che è stata fatta con intento diffamatorio la bacheca deve essere visibile a tutti ci sono una serie di come dire codici da ricalibrare che rendono molto complesse se io scrivo sulla mia bacheca la scuola normale ha un covo di pericolosi sovversivi fanno le bombe nei semi interrati e lo scrivo sulla mia bacheca pubblica privata e il mio setting è tale che nessuno la può vedere tu non puoi accusarmi di diffamazione o puoi a seconda di quante persone lo vedano e che danno ma è molto complicato dimostrare un intento diffamatorio se la frase è più mediata e soprattutto io voglio poter essere libera di dire che la scuola normale è un covo di pericolosi sovversivi senza beccarmi una denuncia per diffamazione quali sono anche dal punto di vista dell'utente le coordinate entro cui dobbiamo muoverci è ancora tutto da dibattere e tante persone sono nella più totale ignoranza di questi meccanismi non credo veramente che il problema sia risolvibile con degli interventi di censura posso sbagliarmi però forse è lo spirito come dire da giornalista che parla mi dispiace interrompere la discussione ma siamo tanto sono anzi molto contento del dibattito avrei anche io molte domande da fare e molte considerazioni che ovviamente vi risparmio ringrazio tutto di essere stati presenti ringrazio soprattutto te per la bellissima conferenza e per i moltissimi stimoli che ci hai dato spero che anche le prossime venerdì su altri temi abbiano il stesso successo che avuto questo e vi invito tutti a un piccolo aperitivo che avremo nella sala qua di fronte subito adesso grazie ancora grazie a voi per la pazienza grazie a tutti